Capossela, Niccolò Fabi, Chiara, questi nomi che si sono alternati sul palco dello Sferisterio per la prima delle tre serate di Musicultura. Accanto a loro i veri protagonisti del festival della musica popolare e d'autore, i quattro degli otto finalisti, Turkish Café, David Di Rosolini, Artù, Chiara Dello Iacovo. Sono passati alla seconda serata i Turkish Café e Davide Di Rosolini. Molto apprezzati sia Niccolò Fabi con New Quartet che Vinicio Capossela, a cui è stato anche attribuito il premio dell'Università di Macerata e Camerino. La serata è poi proseguita con il conferimento di altri riconoscimenti. Premio CIA è assegnato ai Turkish Café. Premio Nuovi Maie consegnato dal cantautore Massimo Di Cataldo a Chiara Dello Iacovo per il brano Il Soldatino. Ospiti tra il pubblico Alessandro Cecchi Paone, intervistato da Fabrizio Frizzi, conduttore del festival. Questa sera sul palco maceratese è seconda finale del concorso con Gianmarco Dottori, Paolo Russo, Flo, Ivan Talarico, gli ultimi quattro ad esibirsi. Tra loro si sceglieranno due nomi che si contenderanno la vittoria insieme ai primi di venerdì. Ospiti di questa sera Banco del Mutuo Soccorso, gli Oblivion, Xiaohé, Guido Catalano. Domenica gran finale che decreterà il vincitore assoluto. Gli ospiti saranno Roberto Vecchioni, Francesca Prestia, Siria, Amara, Bruno Rissas. Luce sei e poi da sicura nel tempo imparo dal gelo della gente. Roli pure a casa di gesso, non vesti neanche il muro. Ho soltanto un'oprire di me stessa, sarà un mostro sicuro. Mi hai chiamato un giorno distratto, Dio, come strada, sono sicura. Anche il tempo ho capito il regalo, tu sei il rimedio alla vita. Mi hai chiamato un giorno distratto, Dio, come strada, sono sicura.